Non ce lo neghiamo, è difficile accettare la misericordia di Dio, anche perché per gli altri preferiamo la giustizia, per noi la misericordia, ma se abbiamo questi sentimenti siamo in buona compagnia, siamo in compagnia di un simpaticissimo profeta, Giona, quello che voi tutti conoscete. Fu mandato a predicare la conversione a Ninive e lui non ci volle andare. E poi alla fine, quando dovette andarci e Ninive si convertì, anziché a seccontanto si arrabbiò e nella sua preghiera ci rivela la ragione per cui non volle andare a predicare a Ninive, perché non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese. Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Giona non vuol diventare strumento della misericordia di Dio nei confronti dei pagani. È il pagano più lui che di quelli di Ninive. Il Signore ci ripete oggi, non giudicate e non sarete giudicati. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli.